Ho detto chiaramente davanti ai giocatori che per me questo deve essere l'ultimo anno, sia che sia Serie B e che sia Serie A. Il Livorno è in vendita. Io mi auguro però e spero di mettere tutta la mia forza ancora, tutte le energie che mi sono rimaste insieme ai giocatori per poter rimanere in Serie A, perché sarebbe veramente un altro sogno che si realizzerebbe, perché il Livorno in Serie A c'è stato 5 anni e un anno di B. Se facessimo il secondo anno di B, io credo che per una città piccola come Livorno non deve essere neanche preso come un disonore. Anzi, noi abbiamo 8-9 giocatori molto giovani in giro e quindi abbiamo già 24 giocatori di proprietà e questo il nuovo proprietario che verrà troverà una squadra già fatta e anche veramente con possibilità di ritornare eventualmente immediatamente in Serie A.